Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video parlando di... Oggi parleremo di un videogioco dal nome Kingdom Hearts... Ok con l'inglese sto a zero, non prendetela con me ma mi ha costretto Kevin a fare questo video Quindi è colpa sua se non so parlare No no, linciatela così prendo io il canale, linciatelo pure Ti prendi questa responsabilità di un canale così forte come il mio? Mi prendo la responsabilità di farlo fallire Ah grazie, che amore Dove tanto buttamento di sangue arriva lui Ok Come ospite abbiamo Kevin che si può dire che è un esperto con le serie animate americane, videogiochi di questa tendenza come KKH... faccio così meglio KH Kingdom Hearts, non lo so dire E hanno pugnalato il cuore per ogni fan E lo pronuncio errato Spera che non lo vedano molti questa Perché sennò ti vengono ancora a casa Ok, venite mai a linciare Non è un problema L'importante è che ci sono parecchi visual Poiché siano belli o brutti O negativi o positivi O buoni o cattivi L'importante è che ci sono Ok, dai Non inizierò con una battuta Perché Mi sono scocciato Ormai di fare queste battute Che poi nessuno ride Quindi lascio la parola a Kevin Bene La battuta del giorno è la seguente Ah, la fai tu? Non fidarti Non fidarti Ti metti al posto mio Mi prendo il grande onore Vai, dimmi Non fidarti del fien Tutto è bald Ok, qui Coloro che erano venuti per linciare me Ora linciano te Avete sbagliato live Ok, dai Iniziamo un po' a parlare serie Che cos'è questo KH? Allora, Kingdom Mars fondamentalmente È la storia di un ragazzino Di nome Sora Che adesso ha 16 anni Più o meno 16-17 anni Di nome Sora Grazie a una chiave A una spada a forma di chiave Chiamato Kybrade Viaggia per i mondi A combattere contro l'oscurità E infatti a proposito di oscurità Oggi vi andremo a narrare Di una delle icone di questo gioco L'organizzazione 13 Un gruppo composto Da 13 Potenti nessuno Con Conzione inclusa Uno dei personaggi che andremo a trattare Sono i 14 Ma prima di ciò È doveroso Dire che cos'è nessuno Allora Di norma In questo gioco Se una persona accede All'oscurità del proprio cuore Diventa Un Heartless Che è l'oscurità del cuore incarnata Ma persone con una Forte volontà E con un forte cuore A volte Si lasciano Un guscio vuoto dietro Composto da mente e corpo Della persona Che era in vita E questo involucro Si chiama nessuno Ne esistono due tipi Il tipo minore La cui specie È chiamato simili Ognuno di loro dotato di Forza E dimensioni E poteri diversi E poi ci sono De nessuno maggiori Che sono Le persone Appunto Che hanno saputo Rimanere più o meno In vita Ma con le loro fatte Epsi originarie Che non hanno mutato Il loro aspetto In seguito Alla trasformazione In Heartless E nessuno Ok Solo questo Preannuncio Che sono del tutto Ignorante Su questo Su questo argomento Quindi mi puoi anche Venire a dire Che Cazzi e ballacchi Io dico Va bene No io non dico nulla Passano direttamente Ok Ok Allora Praticamente Questa è la storia principale Cioè la La trama principale Che accomuna Questo videogioco Alle serie Che sono successe poi Si allora Parti di questi Nessuno si è visto Prima in un gioco E poi La restante metà del gruppo In un altro Ok Per quello che ho potuto vedere Un po' in giro Sui social E su Qualche spezzone Che ho visto Perché Ci sono personaggi Tipo Topolino Duffy Duck Tutti quelli Della Disney Anche qualcuno Qualcuno Duffy Duck Non è Disney Vabbè Topolino Sì Allora fondamentalmente Questo gioco È un'unione Tra Disney E Square Enix No Ho visto anche Qualcuno Della Cap Mi ricordo bene Tetsuya no Moore No no Disney e Square Enix E cos'è Allora La Disney Vabbò Inutile che Lo dico Conosciamo tutti La Square Enix È la casa produttrice Che Suorna Il videogioco È noto come Final Fantasy Infatti Esistono vari Final Fantasy Gioco su cui sono Molto ignorante Esatto Sì Ne conosco pochi Grazie a Kingdom Mars Mi ricordo Che ho visto Sefi North Sefi North Vabbè Come si chiama Quello lì con i capelli grigi Argento Non mi ricordo più Che ho visto Come ragazza Vabbè È bellissimo Vedere come Come Pluto Possa servire A qualcosa Nella vita Ok Allora Vogliamo iniziare Un po' A parlare dei personaggi Preciso questa cosa Immagine che Tu ci hai dato Non è colpa nostra Se poi Non sono bellini Metto sempre le mani avanti Andiamo avanti Qui si offendono i fan Andiamo avanti No E qui Metto le mani avanti Non si sa mai Allora Vediamo un po' Questo personaggio Chi è Cosa fa Perché ha una chitarra in mano Allora Di questo personaggio Preciso che Gli antefatti Sono Tuttora Sconosciuti Ma Il personaggio in sé È il numero 9 Dell'organizzazione Denix Il notturno melodico Domino L'elemento acqua Ed è armato Di sitar Questo è il membro Più pigro Dell'organizzazione Infatti Non è fatto Per le missioni Di forza Conto per lo più A malapena Di ricognizione Come si vede In un gioco E appunto In Kingdom Hearts 2 Lo si incontra Un paio di volte La prima Nel mondo di Ercole Chiamato Il Montorimpo E la seconda In un mondo iconico Della saga Chiamato La Fortezza Scura Dove troverà La sua fine Per mano di Sora Il protagonista E basta Di luce Da dire questo Il livello di potenza Si potrebbe un po' Un po' Rapportare a qualche personaggio Di qualche anime Beh diciamo che Dato che lui domina L'elemento acqua Ora Perdonate ignoranza Ma potrebbe naturalizzare Fondamentalmente I frutti Del mare Perché mi pare Che i frutti del mare Vengano meno Con l'acqua Sì Se l'acqua è salata Ah solo se è salata Sì Solo se è l'acqua del mare Che altrimenti Nessuno si potrebbe fare Un bagno Altrimenti Sì Io ho letto Dipende Dalla quantità d'acqua Ma Ho visto una scena Dove erano alle terme E Quello lì Con il potere Del potere del ghiaccio Ha detto Aokiji Sì Ha detto Se avessi voluti fare fuori Non vi avrei di certo Incontrati In un posto in cui I poteri del frutti Del mare Vengono meno Magari Alle terme È diverso Dall'acqua Di un lago O l'acqua di un fiume Ok dai Fondamentalmente Può anche formare Delle notte musicali D'acqua E anche dei costrutti D'acqua Ok Vediamo un po' Un altro personaggio Ok Chi è questo rosso? Ah Il numero 7 Mi pare Adesso qui Ho un voto di nuovo Il numero 7 Dell'organizzazione Axel Il cui vero nome È via Sì Nella prima organizzazione Sono numerati In base all'ordine Di entrata Ah ok Quello di prima Che numero era? Il numero 9 Quindi non è un numero Di potenza Ma di entrata? No no Di entrata Ok ok Vabbè Vai dimmi Ovviamente Anche lui è forte Dato che si occupa Di dare anche la caccia Ai traditori Il suo soprannome Nell'organizzazione Soffio di fiamme danzanti E Ovviamente La magia che domina Il fuoco Ed armato di Chakram Ma va detto però Che ogni nessuno Oltre ad essere specializzato In un elemento specifico Può essere anche I poteri dell'oscurità Che Sfruttano anche Per spostarsi Tra i mondi Tramite i corridoi oscuri Livello di potenza? Allora Lui è riuscito A tenere testa A uno dei più forti Dell'organizzazione Che dominava la natura Il suo livello di potenza Lo definirei Medio alto All'incirca Dammi un personaggio Di riferimento Diciamo che potrebbe Competere con S E spugno di fuoco Sì perché Il suo attacco Proprio finale Che costa la vita Anche a lui Che è costata la vita Anche a lui In Kingdom Hearts 2 È un'immensa esplosione Che gli ruba Tutta l'energia Ma che è stato di In grado di spazzere via Un esercito di simili Questo è nessuno minore Appunto Ok Perché anche se Domina il fuoco Dubito che Se presa la sprovvista Dubito che Cresca evitare Un'esplosione Ok dai Cosa altro c'è Da dire su di lui? Allora lui lo ci vede Per la prima volta In Chain of Memories Dove appunto Era stato spedito Al Castello dell'Obrio Come organizzazione Per scovere appunto I traditori Dell'organizzazione Per un po' Ha fatto anche Il doppio gioco In modo da poter capire Cosa avessero in mente E quant'altro Ha provato ad affrontare Il capo appunto Dei traditori Ma Se l'ha dovuto Avere un po' A gambe Diciamo perché Era arrivato Il protagonista In più Il traditore Non aveva neanche mostrato La sua vera potenza Basta così Sì Ok Passiamo ad un altro personaggio Questo qui Questo giocatore Da azzardo Chi è? Eh Hai dato anche Il suo soprannome Bravo Numero 10 Luxord Ah vero? Sì No Io Stavo C'è solo un abbatturo Che ho visto con le carte Non so se Mi ho avuto di mamma Mi pare che si chiami proprio Il giocatore D'hazard Addiritturo Sì Il suo elemento È Tempo Anche se Non si è capito in cosa È bravo nel tempo Perché non ha dimostrato Poteri temporali La sua arma Come vedi Sono Le carte In cui è in grado Di intrappolare I nemici Ok Ho capito Mi devo andare a giocare Una bolletta Allora Sono indovinati Il nome Figurio delle squadre Ok Ti recupera I giochi Sono complicati Da capire Un po' Ma ne vale la pena Qual è La sua fonte di energia? Cioè Il suo potere Qual è? Il tempo Come ti ho detto prima Ma non è ben specificato Il concetto di tempo Dato che Non lo si è visto Con poteri temporali Veri e propri Magari Ha l'orologio in mano E con la lancetta Va avanti e indietro E dice No Va bene È una battuta Ah Pure io Mi metto con l'orologio in mano Vado avanti e indietro E dico Si controllo il tempo Ok Qui non si è visto Tanto di lui Lo si è affrontato In Kingdom Hearts 2 Quando è apparso Lo si è affrontato Letteralmente Verso la fine Piccola premessa Io Parlo Di due soli giochi Perché a parlare Di Di tutte le apparizioni In tutti i giochi Ci impiegheremo Un bel po' di tempo Con i personaggi Piccola premessa Con eventuali fan Che ci stanno guardando Ok Dai Oltre a questo Cosa possiamo dire? Oltre che Oltre che Lo si vedono Nuovamente In futuro Nella saga Nient'altro Ok Vediamo un po' Chi arriva ora Uno con Molte lance Ah Numero 3 Xalvin Quello di prima Che numero era? Quello di prima Era il numero 10 Ok 10 Ok Perfetto Questo è 3 Sì Uno dei membri fondatori Uno dei primi 6 membri Quelli fondatori Me li davi in ordine Quindi nella sua vita precedente Ho detto Me li davi in ordine Così perlomeno Facevamo che 10 9 8 7 Ok Dai Va bene così Dimmi un po' Chi è costruito La sua vita precedente Era una guardia Del castello Di Ansem Il sabio Uno studioso del cuore Poi quando È piombato Vittima dell'oscurità Si è trasformato Ad auto vita A un arteles E di conseguenza Anche a nessuno Lui domina il vento In Kingdom In Kingdom Hearts 2 Si vede Irritire la bestia Della belle la bestia Appunto per poterlo Trasformare In un arteles A sua volta In un potente Nessuno Da poter controllare Ma alla fine Come il resto Che appare in Kingdom Hearts 2 Viene sconfitto Da Sor Il protagonista La sua arma appunto Sono Sei lance Domina la magia Del vento Ok Si è visto un po' Qual è il suo potenziale Lo si può associare A qualche personaggio Degli anime Beh Un personaggio Bello tosto Per il suo potere Tempo Per il suo potere Del vento E le sue lance Lo si potrebbe Allora Dico il personaggio Più brocco Di Dragon Un po' che mi è venuto In mente Il Kaioshin Dall'Este Insomma Il primo Kaioshin Che vediamo In Dragon Ball Z Che Si dimostra Quelque potere Psichico Ma Cimbulo Spazzato lì Come se non lo fosse Sul punto di vista Fisico Ok Ecco Se si contasse Soltanto Il potere Fisico Kaioshin Avrebbe Le braccia Spersate Di sicuro Oh Addirittura Ok Non so se mi sbaglio Amanti di Dragon Ball Non linciate Mi linciate Il profitero del canale Io non sto proprio parlando Sto facendo fare tutto a te Proprio per non avere le colpe Io sto facendo il paraculo Eh infatti Io no Sto facendo quello che non sente E non sente Ok dai Vediamo un altro personaggio Ok Questo ragazzo Spero Dai capelli roso Con una bella Farce in mano Che Rassicura Molto Chi è Cosa fa Perché Ha una farce in mano Numero Undici Marluzia Undici È armato ovviamente Undici Undici Sì Ok Sì È armato di falce Domina la natura Questo qui è il membro Dell'organizzazione tradice Che ha ridito il tradimento Assieme al numero dodici L'Arxene Di cui poi parleremo in seguito Di quell'altro membro Allora Lui ha Addestrato Il numero tredici Roxas Durante la sua prima settimana Quando ha visto il potere del Keyblade Gli è venuto in mente Di Provesciare L'organizzazione Tredici Ma tuttavia Avendo paura di affrontare Direttamente Il capo Ha reputato meglio Manipolare Sora Per i suoi fini E per il modo Che due si scontrassero Cosa che ovviamente Non gli è riuscita Nonostante tutta la sua forza E le sue macchinazioni È stato sconfitto Nel finale Di Kingdom Hearts Chain of Memories Si è visto Si è visto abbastanza Di lui Per dargli un Si poi ritorna anche In Kingdom Hearts 3 Poi si è visto Nel Nel gioco che Rappresenta Il passato Dell'epoca attuale Quindi si si è visto Molto di lui Era anche un signore Del Keyblade in precedenza Vedendolo un po' così Mi viene da associarlo A Black Goku Entrambi Tradiscono appunto Il proprio ruolo La propria gerarchia Appunto No più che altro Per i capelli rosa E la falce Marlux è anche in grado Di creare Un costrutto A forma di angelo Precisiamo Quindi lo vedresti bene Contro un Black Goku Si Addirittura è così potente Si è arrivato addirittura A creare un suo clone Proprio come Black Goku Non è che è Black Goku Ispirato a questo Probabile Eh Sai com'è Ok Ma qui non scendiamo Troppo nei dettagli Perché non voglio Sare un gioco Sul gruppo Di Nama Quindi procediamo Perché se no Mi faranno una testa Tanta Poi nel gruppo Dai Passiamo ad un altro personaggio Passiamo ad un altro personaggio Vediamo un po' chi arriva Per me sono tutti nuovi Quindi Chi arriva Arriva Ok Allora Questo con Uno scudo Spinoso Numero 4 Vexen Ok Lui è il potente Domino il ghiaccio Ed è stato Il creatore Del progetto Replica Progetto di cui parleremo Più avanti Perché è legato Al numero 14 Lui fondamentalmente È stato inviato Al castello dell'oblio Anche lui per Sventare Il piano di Marluxia Ma siccome Si è fatto scoprire Insomma È stato eliminato Poi per mano Di Axel Perché doveva guadagnarsi La fiducia Di Marluxia Ed è stato uno dei pochi Che non è stato Accoppato dal protagonista Cioè Si è scontrato Con il protagonista Ma È sopravvissuto Diciamo Solo per poi Essere fatto fuori Lui Era il capo Ricercatore Dell'organizzazione 13 Appunto Ok Cosa Il suo tier Quale potrebbe essere? Non saprei dire Ok Vediamo qualche altro Personaggio E arriva questo Che penso Che è molto forte Ah sì È il vizio Dell'organizzazione Penso Non lo so Lo vedo Lo vedo abbastanza Cazzuto Con la spada Che te la spacca in testa È un glamour In pratica Lui e Axel In vita avevano Una bella amicizia Che poi In un certo senso Si è anche mantenuta Nell'organizzazione Perché Mentre Axel Pensava A suoi nuovi amici Lui Ci sono più Di un'occasione Perché volendo Lui l'avrebbe potuto Prendere proprio il numero 7 Per l'orecchio E eliminarlo Se avesse voluto Soprattutto quando È in modalità Berserker Poi domenica Berserker È uno Diciamo che È un bel bastard Puntini 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 Ho usato la pensura A youtube Quindi Ti ho fregato Ok Come potenza A chi lo associ Se è quello di prima L'è associato a Black Goku Penso che questo Lo associ A Jiren Giusto per dire No no Non così tanto Diciamo che potrei Imparagonarlo a Un Zamasu Senza L'immortalità Non esiste Un Zamasu Senza Immortalità Veramente Sì Quello della linea Temporale Di Goku Sì Ma È molto Più scasso Quindi questo È molto più scasso Di quello di prima Beh No no Non proprio Allora Un po' Quei livelli di combattimento Sono un po' Una frana Allora Diciamo che posso Paragonare anche lui A Uno dei Kaioshine Che Del nostro universo Però Sì Lo si potrebbe definire Quello armato Di spade Presente Quello di che aveva Tranzato Buin 2 Ma che è stato Lo stesso Accoppato Mi faccio Con la spada Che non mi ricordo A quelle tipo Sì Kaioshine Dell'ovest No Del nord Del nord Dell est Dell est E Il Kaioshine Che vediamo È la ragazza È la ragazza Ok dai Non abbiamo più Nulla da dire Su questo Oltre al fatto Che Se veramente Dovesse spendere Molte parole Non si uscirebbe Più Da questa live Ok Allora passiamo Ad un altro Personaggio Ok Questo È un po' Troppo Piccolino Però va bene Lo stesso Chi è questo qui Con Gli stuzzicadenti A le dita Sigbar Il cecchino Che fa? Allora Questo è un membro Uno dei membri fondatori Il suo potere È Lo spazio Infatti è in grado Di deformare Il terreno Del campo di battaglia Oltre Ad avere Una mira Formidabile Anche se Dalla venda Sull'occhio Non si direbbe È infatti Un cecchino Con un occhio solo Proprio è il massimo Sì Lo stato Eneghematico Consora Per la maggior parte Di Kinomars 2 E anche Oltre Appunto Ma tuttavia Il luce È molto Di più Di quello Che sembra Anche per lo stesso Maestro Xehanort A dirlo Tutto Cosa fa Questo Di speciale Nella serie Dei videogiochi Allora Lo si era visto Nella terra dei dragoni Che è il mondo Di Mulan Artele si viene eliminato Si ripristina La persona Che era In vita Poco prima Della scissione Tra Arte Nella sia nessuno Niente più Secondo Un'altro Il suo potere Di danzatini Per quel che riguarda I fan Ma in realtà Non tanto Quindi dovremmo andare Di yaoi Qual è il suo potere Il nulla Ok Il nulla Che significa Ed armato Di spade terre Che a prima vista Sembrano un po' Di spade laser Di star wars Ok Che cosa significa Il nulla Cioè Al potere Del nulla Che significa In questo momento Mi cogli Alla 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 Sprovvista Cioè che fa Quando lui fa Si è in grado Di teletrasportarsi Di creare Delle copie illusorie Bibili Diciamo Che possono colpire Il nemico Ma che crollano Facilmente Vabbè Non è poi Il potere del nulla E per questo si è in grado Di assorbire Un mondo artificiale In piena regola Il potere del nulla Per me è quando Si manda tutto Nell'oblio Quindi praticamente È una specie Di Di barba nera Adesso devo fare un ripassino Aspetta un attimo Che Te lo spiego Subito Fammi cercare un attimo Nel frattempo Ricordo a tutti Per chi volrebbe Seguire l'attività Porterei il link In descrizione Pagina facebook Gruppo facebook Instagram Youtube Tiktok Che c'ho più Non mi ricordo più Anche Twitch Trovato Ecco fatto Allora Il nulla È un raro potere elementale Il suo opposto È Plasma Nessuno sono composti Dal nulla Come Gli arteles Lo sono dall'oscurità Il nulla Infatti È una delle tre Grandi forze Dell'universo Che rappresentano Un'assenza di luce E di oscurità Infatti Esiste Un reame Che lo rappresenta Il reame del cropuscolo Interregno Tra quello Della luce E quello Dell'oscurità Chi possiede Questo Elemento È in grado Di attirare Oggetti O respingerli Con la forza Del magnetismo Così come Si possono Arrivare In un punto In emizio Dove vengono Lentamente Danneggiati Ok Un bel potere Cazzuta Allora Ok Come lo vedresti Contro A Che gli possiamo Mettere Contro Ad un Jiren Che dici Giusto per Tenerci alto Nello scal Qui non vado a fare Flame Quindi Mi ostengo Ma Un Goku Super Saiyan 3 Ci può rivaleggiare Volentieri Ah Gli può tenere testa Un Goku Super Saiyan 3 Cavolo Io dico Jiren E tu mi metti Un 3 contro Perché non voglio Flame Però Precisa Quale Goku Goku Super Saiyan 3 Della Saga di Machine 2 Quando affronta Kid Bu Diciamo Ah Ok Perfetto 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 Quello di fine saga Dove Goku Dà il meglio di 6 In effetti Contro Kid Bu Nello stadio del Super Saiyan Ok Non problemi Me l'hai tenuto così basso Questo Che mi hai fatto passare La voglia di credere Che lo tengo basso Ok dai Passiamo un po' avanti Potrei paragonare pure A un Goku Prima che acquisisse Il Super Saiyan God Se vuoi Quello lì che prende Le mazzate da virus Sì Ok Vediamo un po' Cosa arriva ora Ok Questa Giovane ragazza Ah L'Arxen Che numero è? La ninfa selvatica Questo è il numero 12 E infatti uno dei traditori dell'organizzazione Ok Quale è il suo potere? Il suo elemento è il suono Ed è armata Di kunai Il suo carattere Violento È aggressivo Ed è spietata come pochi L'ha andata a sposare praticamente Sì Se vuoi di farti castrare Andiamo avanti Qui si sta per andare su di sotto più Infatti lei Ha appoggiato l'idea del tradimento Da parte Di Marluxia E ha agito con lui Nell'ombra Pur essendo tenuto d'occhio Da altri membri Al castello dell'oblio È stata eliminata Dal signore del Keyblade Sora Che è appunto il protagonista Del gioco Ok E io Direi Meno male Perché è una scassa Scatola unica Ah Addirittura Sì Ed è difficile Da fronte redatto Che il gameplay Del gioco È Ah Ok Dobbiamo passare avanti A qualche altro personaggio Lo gravisco Ok C'è quest'altra ragazza Chi è? Andrebbe tenuta sul finale Che avevamo concordato Ah Ok È Mola messa Pare brutto Ah Ok Allora Xion Scusa se lo dico La mia Xion Dato che sono cose Di questo personaggio Una replica Artificiale Del signore del Keyblade Sora E del studio Nessuno Roxas E qui Pongo un attimo La pausa Per spiegare Il progetto replica Il progetto replica Ideato Da Vexen Consiste nel creare Delle entità meccaniche Chiamate repliche In grado di Sostituire E anche in seguito Rimpiazzare Permanentemente Un essere umano Basta caricarli Con i ricordi Oppure con i dati Di qualcuno E possono fungere Anche come Un secondo corpo Se ci si riesce A trapiantare il cuore In questi soggetti meccanici Il potere Di Xion È Il neutro Che Che consiste Nel plasmare Le armi E domina anche L'elemento luce Ed armata Di Keyblade Lei al numero 13 Hanno stretto Una grande amicizia Che numero è lei? È un numero Gli hanno dato Un numero fittizio Dato che non è mai stata Parte dell'organizzazione Comunque Un pseudo numero Quattordici Ok Infatti Non ha avuto Neanche un trono Nella sala delle riunioni Appunto perché Non è stata considerata Veramente un membro Dell'organizzazione È stata messa come Sicurezza Nel caso in cui Roxas Non si fosse dimostrato Adatto agli scopi Dell'organizzazione Alla fine Lei ha scelto Di sacrificarsi E di farsi Distruggere da Roxas Perché Senza volerlo Ne stava assorbendo Poteri Ricordi Ed energie Infatti dopo aver Tentato la fuga Inutilmente Si è fatto distruggere Per preservare Il suo amico Quindi praticamente è un clone Di Roxas Lei Si Un clone femminile Dato che Roxas È È Maschio E viene anche scippata Con lui Da me E da altre persone Ok Abbiamo un saluto Buonasera Aucca Perdonami che non lo so dire Non so parlare inglese Figurati le altre lingue Aucaladur Buonasera a te Dove è il commento Su Twitch Ah ok Perché qui non vedevo nulla Scusate Ok Passiamo un po' avanti Vediamo chi arriva Ok Questo qui che Non mi ispira nulla Infatti è un bel versione Grande e grosso Infatti lo dico Non mi ispira nulla Quella di prima Si Ok Dico soltanto Che con un po' Non è in grado Di ridurre L'incoscienza Vabbè Chiunque Mi può ridurre L'incoscienza Ormai Sono tenere E paffuto Capito Di dove sei Che vengo a trovarti Primo po' Sono di Dove mai Ok dai Dimmi un po' Chi è questo Perché ha una spada in mano Perché è così Grosso Perché Spacca il mondo Perché dimmi tutto Cioè io sto a parlare Se non sono cazzate Però non le fai dire Ok dai Siamo seri Chi è questo E perché è una spada in mano Numero 5 L'Exeus E l'Eurea del Silencio Il suo elemento È la terra Ed è stato inviato Al castello dell'Obrio Per sorvegliare I traditori Ma alla fine È stato sconfitto Da Ricu L'amico di Sora Che in sé Portava ancora Qualche residuo Dell'Artless Di Xeanort Che assolta E la controparte Artless Di Xeanort Il superiore Infatti L'Eurea è stato Ucciso Con un suo colpo Di netto Nonostante Prima non si si fa Il mazzo Per affrontarlo Nel gameplay E io dico Perché Perché non lo mettete Direttamente Il filmato Anciché Farsi scontro Inutilmente Ma vabbè Questi sono Scheleri Da Videogocatore Lui nell'organizzazione Ha introdotto Roxas Al gameplay del gioco Di TNF Memories E è chiamato Limite Infatti L'aveva ridotto Proprio a un goccio Di vita Per fargli scatenare Questo potere Per il resto L'ex Eus In vita Era una guardia Del castello Di Ansem Ed era piuttosto Taciturno Parlava poco Poi vabbè È tornato In vita Come Gli altri membri Dell'organizzazione XIII Come Come essere umano Ok Altro su di lui? A parte che è stato Uno dei miei primi Preferiti No Ok Vediamo un po' Cosa Ci aspetta Ok Uno che legge Dimmi un po' Perché sta leggendo? Jackson Allora Quello è La sua arma Finalmente Un libro Di Magia Appunto Jackson È Un grande Illusionista Che È in grado di assumere Anche le fattezze Di altre persone Di Incasinarti Per bene Diciamo Si è scontrato Contro Riku L'amico Di Sorma Ha trovato la fine Per mano Della replica di Riku Il quale ha assorbito Il suo potere Dopo che È stato sfinito Dello stesso Riku È il numero 6 Dell'organizzazione Ok Quindi il suo potere È il libro Quindi dal libro Esce la sua magia Incantesimi Quindi Si è in grado di Intrappolarti Anche dentro il libro Quindi Il suo potere È la magia Si Magia Illusori Ok Quindi tramite Formule Prattiche Magiche Quindi praticamente È un mago Uno stregone Si Ok Vediamo un po' Adesso l'elemento insieme Non me lo ricordo Pienamente Ok Ho detto qualche tattica Che usa Principalmente Vediamo un po' Cosa arriva ora Ok Ultimo personaggio Ah Il nessuno Del Te raccomandate No scusate È del favorito No 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 scusate È del protagonista Non ho capito nulla Perdonami Che hai detto No no è una battuta Ho detto Il nessuno Del raccomandato No scusate Il nessuno Del Del favorito No scusate Il nessuno Del protagonista Insomma Per fare la battuta Che lui È il nessuno Del raccomandato Percezione Il protagonista Chi è? Roxas Quindi lui Il suono Sì Ok Ho fatto bene Allora Non conosco qualcosa No perché io mi ricordo Me lo ricordo Però con Tipo Pinocchietto E maglietta Quindi Oppure mi sbaglio Ah forse tu hai visto Un altro outfit Questo è Lui indossa La tunica Dell'organizzazione Qui No io l'ho visto Proprio insieme A Non so chi Mi pare Yogi Osso Yogi Non mi ricordo Vabbè comunque C'aveva la Keyblade Mano Capelli Un po' più Anche lui è armato Di Keyblade Capelli un po' più Marroni Queste Terra di Siena Vabbè Comunque dimmi Allora Lui comandava Una categoria Di nessuno Inferiori Chiamati Samurai E appunto Nell'organizzazione Aveva il compito Di raccogliere I cuori Degli arti L'esemblema Per formare Il Kingdom Hearts Artificiale Poi alla fine Di Gen of Memory Lui ha tradito L'organizzazione Dopo la battaglia Con Xeon Ed è stato Intrappolato In una città Virtuale Privato Dei suoi ricordi Poi in Kingdom Hearts 2 Si ricongiunge Col suo Qualcuno C'è Sora Perché Il loro è l'unico caso In cui Qualcuno Si è reso Refinale E nessuno Si Sora è il qualcuno Di Roxxas Ah ok Perfetto Allora mi confondo Con Sora I due appunto Sono L'unica eccezione Alla regola Perché di norma Non si può esistere Parallelamente Al proprio nessuno Ok Ho capito Tutta via C'era ancora bisogno Di raccomandato E per questo È stata fatta L'eccezione Ok Qual è il suo potere Ricordamelo Luce Ok Ironico Dato che è una Trattura dell'oscurità Quindi se questo Si scontra Con quello Del nulla Chi vince Beh Roxxas È nettamente Inferiore A Xemnas Perché anche In Kinomars Ha provato Ad affrontarlo Ma comunque Xemnas Gli è il superiore Di esperienza Anche Ho capito Ok Dai Abbiamo altro Da aggiungere Su di lui Senza Prolongare Di tanto La durata Della live Non tanto Ok Perfetto Dai Allora Un paio Di domande Un paio Di domande Giusto Per chiarire Un po' Questa cosa Di K Come inizia K Cioè Qual è Lo start Della trama Della trama Risede Molti anni indietro Con Auroppoli Dove I signori Del Keyblade Prosperavano Andavano in missione Appunto Ben prima Dell'esistenza Di Sora Poi però Si sono scontrati Tra loro A causa Di una guerra Civile Che ha ridotto In pezzi Il loro mondo In tanti piccoli pezzi Che a loro volta Sono Tantissimi mondi Infiniti Ognuno Separato Delle barriere Per impedire Una seconda guerra Del Keyblade O per meglio dire Una terza Dato che La guerra civile Che c'è stata Era Una sorta di Seconda guerra Del Keyblade Ok Quindi Qual è Il motivo Che scatena Tutta la trama Non l'ho capito La guerra Contro L'oscurità Ok L'oscurità Che vuole fare Allora All'inizio L'oscurità Era divisa In tante In tante forme Che alla fine Per non dover Soccombere Cerebralmente Dato che loro Sì sono senza forma E quindi non possono morire Possono impossessersi Della gente Ma Se restano Se restano fuori Da un corpo ospite La loro mente Viene a meno E sono ridotti Come a dei vegetali Quindi alla fine La maggior parte Dell'oscurità Si è fuso Nel principio stesso Di oscurità Mentre sei Sono rimaste fuori A operare Per i loro scopi Nefasti Ok Quindi Per combattere L'oscurità Che ha Sete Brama Di potere Sì Sono molto subito Dato che conoscono L'indole umana Ma Non possono impossessarsi Di persone Col cuore puro Se una persona Resiste alla loro volontà Loro Rimangono bloccati Nel cuore Senza possibilità Di uscita O di dominazione Ok Il K-Blade Come viene utilizzato Cioè Può essere utilizzato Veramente come una spada Si Può essere stato Per scagliere Magie Per chiudere Per chiudere O aprire Le serrature Dei mondi Anche per Estrarre il cuore Dagli esseri viventi Se Un signore del K-Blade Ha abbastanza esperienza Quindi non può essere usato In Un incontro Tra spade Sì Può essere anche utilizzato Così Dove è la lama? Se è una chiave Signore che è rotonda Sì no appunto Queste lame Sono a forma di chiave Ma sono principalmente Delle spade Che a loro volta Hanno preso forma Dal vero K-Blade Che in seguito Alla primissima guerra Del K-Blade È stato spaccato In 13 In 7 Pezzi Di luce In 13 Di oscurità Quindi è stato spaccato In 20 parti E il vero Kino Mars È stato Fatto cadere Nel reno scuro Nell'oblio Ok Vabbè Altre domande Aspetto un attimo Che me le formulo Un attimo In testa Ah Gli annunci di nave Se voglio Non posso fare Delle domande E tre commenti Sì infatti Chi sta Guardando questo video Ti dico Per chi si è Esatto Sì Chi sta guardando Questo video Può lasciare tranquillamente Qualche domanda Nei commenti Non è un problema Io non posso rispondere Perché non so nulla Per questo abbiamo Kevin Altrimenti Perché sta qui Oltre per essere pagato È vero È vero Lui prende Mille euro A ogni A ogni commento A ogni Introduzione Mille euro Lo faccio io Non lo fai tu Ok Più che altro La domanda è questa Dico io Dico io Dico Perché Coinvolgere Topolino E Sefirot Cioè i personaggi Della Disney I personaggi Di Final Fantasy Perché Perché L'idea fondamentalmente È venuta Al A uno dei capi Sviluppatori Di Final Fantasy Il quale Voleva una collaborazione Con la Disney E dopo Molti anni Di trattative Incluso lo stesso Topolino Perché all'inizio È stato Fatto come comparsa Dato che non aveva Pienamente i diritti Insomma Dopo molti anni Di trattative Il primo Chino Mars Ha visto la luce Da lì È piaciuto così tanto Che ne sono stati Fatti altri Ok Nei primi giochi Sono stati introdotti Anche i personaggi Di Final Fantasy Appunto per dare Un po' di pienezza A questo gioco Dato che si era ancora All'inizio E quindi Non c'erano Molti personaggi Originali Quindi Il personaggio Vero e proprio Di questo gioco È Sora Sì Sora Kairi Riku I membri Dell'organizzazione 13 Più Altri Ok Perché penso Che se Anort C'è Si deve Parlare Sì È stato Il fulcro Di tutti questi giochi Della prima saga Si perché poi c'erano Brevemente Perché il tempo concesso Era quello Perfetto La prossima volta Spero di portare La seconda parte O almeno Un altro contenuto Sembra il tema Di King Kingdom 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 Non lo so Pronunciare Ti do un compito Per la prossima volta Impara la pronuncia Ci sei tu Ci sei tu Io faccio solamente Lo spettatore simpatico Vanno altri 500 euro Di paga Però Pure Si Ah vabbè Ti stai facendo le vacanze Nelle Maldive Con i miei soldi Ok dai Ringrazio a tutti Coloro Che hanno visto Questo video E soprattutto Ringrazio Coloro Che vedranno Questo video Se saranno A questo punto Senza essersi Tagliate le vene E vi ringrazio Coloro Che non sono scappati Alla mia battuta D'apertura Molto probabilmente Chi vedrà Questo video Si fermerà A quella battuta Gli altri 50 minuti Non li vedrà Ok È il caso Di andare a spezzare Qualche braccio Ok dai Ringrazio Kevin Di essersi messo A disposizione Per la spiegazione Di questo Videogioco Di questo Come si può chiamare Anche Merchandising In un certo senso Io lo chiamo Vita Dato che ci sono appassionato Ma voi Chiamatelo come volete Basta che non si offre in sin Ok Ringrazio nuovamente tutti Per chi volesse Seguire l'attività Ho i link in descrizione Non li nomino di nuovo Perché sono troppi Attivate la campanella Per rimanere aggiornati Sui nostri contenuti Praticamente Quotidiani Giornalieri Ok Perfetto Nuovamente Grazie a tutti Alla prossima Grazie anche a voi Sfida memorabile Grazie a tutti 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 Grazie a tutti